Bene ragazzi, benissimo, benissimo, una partita proprio stupenda, bravi, voi pensate alla partita con la Lazio, voi pensate alla partita con la Lazio, ma no, perché il Sassuolo cos'è? Non è una partita, voi pensavate già contro la Lazio, andiamo a Roma, la vinciamo, e il Sassuolo è la partita con il Sassuolo dove la mettete? Nel culo ve la mettete! Tifosi che non capiscono un cazzo di calcio, un cazzo di calcio, non capite? Pensate già alla partita con la Lazio che c'è, quella con il Sassuolo c'è, e l'abbiamo persa, e adesso dobbiamo stare qua a sperare che oggi la Lazio non vinca, perché se oggi la Lazio vince, noi andiamo in Europa League, abbiamo buttato una partita nel cesso, potremmo buttare un campionato nel cesso, perché in casa contro il Sassuolo non riusciamo a vincere, non riusciamo a vincere! A parte che tutto si è andato storto, perché loro avranno fatto tre tiri in porta, se va bene, tre tiri in porta hanno fatto, noi, a parte che hanno avuto un culo della madonna, poi ce la consigli che, cioè, è possibile che contro di noi le squadre del cazzo fanno sempre le partite della vita, i portieri fanno sempre i miracoli, poi già dal trentesimo del primo tempo sti qua iniziano a perdere tempo, voi dovete spiegarmi perché una squadra che è già salva, che sia che vinca, che pareggio, che perda, non gli cambia un cazzo, e fa queste sceneggiate dal primo tempo, dal trentesimo del primo tempo, fino all'ultimo cazzo di secondo della fine della partita, perché, voi mi dovete spiegare perché, giocati sta partita, perché devi perdere tempo, fare finta di star male, e tutte ste stronzate di merda per perdere tempo, non ti stai giocando la finale di Champions, lo scudetto, neanche la salvezza, niente, giocati la partita, perché fai ste stronzate, voi vi dovete spiegare perché queste stronzate, poi abbiamo fatto gol, c'era una carica, c'era una carica, l'emos, che non so cos'abbia perché non ha niente, per terra tre ore, tant'è che Raffinio lo prende e lo porta fuori, e fa bene perché non aveva un cazzo sto giocatore, ci ha fatto togliere la carica, ci ha fatto innervosire e tutto quanto, bravi, bravo il Sassuolo, io spero che il prossimo anno retrocedete, io spero che il prossimo anno retrocedete, perché siete una scuola di merda, siete una scuola di merda siete, che invece di giocarvi la partita tranquillamente, fa ste sceneggiate dal primo tempo al secondo, dal primo tempo alla fine della partita, sceneggiate su sceneggiate, sempre per terra, vi inventavate chissà cosa, senza un cazzo, poi parliamo dei nostri giocatori adesso, una difesa che oggi ha fatto cagare, è uno schifo, Cansello ha fatto cagare, Danilo ha fatto, dal dino d'Ambrosio ha fatto più che cagare, Screen, alla parte magari l'ultima, o le ultime occasioni, ha fatto schifo, perché nel gol di Berardi si è fatto saltare come un pollo, quindi anche Screen oggi male, Ranocchia gli do un 6 proprio per essere buoni, perché non ha fatto chissà cosa, poi Brodovic e Vecino, X, cioè davanti uno schifo assurdo, davanti uno schifo assurdo, a parte Rafinha, oggi migliori in campo Rafinha, oggi migliori in campo Rafinha, allora Peric, comunque io lo salvo, perché ha fatto comunque qualcosa, ma io, Candreva Icardi, oggi gli do un 4 pieno, Candreva perché fa cagare come al solito, c'è un'occasione davanti alla porta, tiri di sinistro, mi fai il gol, bello bello, no, devi aspettare, per poi passarle in mezzo, oh, sei davanti alla porta, tira a testa di cazzo, Icardi oggi ha sbagliato l'impossibile, è stato almeno 3 volte davanti alla porta, e l'ha tirata addosso al portiere, ragazzi, una cosa, poi, non c'era mai, non c'era mai, ogni volta che crossavano, e questo e quell'altro, non c'era mai, ma lui è andato, a sbagliarmi, almeno, ricordi, in questo momento l'ha incazzato, almeno 2 gol, uno, proprio davanti alla porta, mentre Consigli si buttava, dove gliela tira, addosso, non lo so come cazzo si fa, e l'altra, nel secondo tempo, gli arriva davanti, dove gliela tira, addosso. Anche Eder ha avuto delle occasioni, che deve tirare di esterno destro, perché di sinistro non si può tirare, va bene, però, entrata di Eder, entrata di Caramò, sì, Caramò ha fatto qualcosina, qualche uno contro uno, ma, niente di che, niente di che, eh, ragazzi, però non meritavamo di perdere, non meritavamo di perdere, ma la squadra oggi non l'ho vista col coglioni, non l'ho vista con la voglia di vincere sta partita, l'ho vista proprio, a parte Rafinha e Pericic, oggi devo dirlo, Pericic magari non ha fatto chissà quale partita, però la voglia ce l'ha messa, parte Rafinha e Pericic, io oggi non ho visto voglia di vincere, Rafinha, con i crampi, era lì che correva a fine partita, con i crampi era lì che correva, anche Brozovic l'ho visto comunque, ha fatto un po' di errori, però l'ho visto comunque sempre propositivo, avrà toccato miliardi di palloni oggi, poi un'altra cosa, mi dovete spiegare perché Andanovic, nelle ultime prestazioni, non prova neanche a pararli sti palloni, nel primo gol, non la prendi, ma buttati, prova a buttarti, io non lo so ragazzi, ultimamente Andanovic non si schioda, che non si schioda, è fermo, lì, piantato sul terreno, e non si schioda, una squadra, che deve vincere oggi, se in casa, di fronte a 70.000, cazzo di tifosi, e tu, non tiri fuori i coglioni, contro un sassuolo di merda, che spero che retroceda, sto schifo, poi non parlatemi di Berardi all'Inter, che lo caccio fuori a calcio in culo, si viene, lo mando fuori a calcio in culo, va bene ragazzi, lasciamo perdere, in sta partita, ci è girata tutto, tutto ci è girato, male, ok, che noi non eravamo al top, va bene i nostri errori, va bene tutto, ma ci è girato tutto, male, una cosa che andasse bene, niente, niente, ha fatto la partita della vita, tanto per cambiare, i miracoli del portiere, e Cardi che sbaglia davanti alla porta, ragazzi, ci serve, ci servono degli esterni, prima di parlare di Cardi, se è da mandarvi o no, ma prima, io voglio degli esterni, che sappiano fare, l'uno contro l'uno, e saltarmi l'uomo nettamente, perché ho bisogno, abbiamo bisogno di quei giocatori, perché Perice una volta la fa, e due volte no, che andrebbe manco per il cazzo, Caramon è ancora giovane, ci servono delle ali, degli esterni d'attacco, che puntino e saltino gli uomini, prima di parlare di Cardi, ok, prima di Cardi, il problema nostro sono gli esterni d'attacco, che non fanno niente, con questo io chiudo, spero, adesso andrò a gufarmi, sta cazzo di Lazio, che sentendo e vedendo il risultato nostro, sicuramente sarà gasata a mille, io spero che il nostro Valterone Zenga, ci faccia un bel regalo, e ragazzi, la prossima settimana, se la Lazio perde, o pareggia, a noi non cambia un cazzo, l'importante è che non vinca, e la prossima settimana, andare lì e a vincere, io speriamo, guardate ragazzi, speriamo, spero con tutto il cuore, che il Crotone, non faccia vincere la Lazio, con questo concludo, perché io sono veramente, un cazzato nero, distrutto, nel vedere questa partita, salve a tutti, amola sempre nel bene e nel male, ciao ragazzi.